In Cielo, per essere salvati, bisogna essere capitati. Noi ci identifichiamo con Romani 6, dove dice che la morte di Gesù è la sua risurrezione. Andiamo nell'acqua, dentro l'acqua, con la nostra vecchia natura, e quando usciamo dall'acqua, come se noi partecipiamo alla sua risurrezione, perché siamo in novità di vita. I believe, when we get water baptized, that the same thing to happen in Jesus is happening for us. E quindi quando noi ci partecipiamo, siamo direttamente in trattamento con quello che è successo. Whenever we obey God, specifically in water baptism, quando noi ci partecipiamo, siamo direttamente in trattamento con quello che è successo. I believe the heaven will provide a different point. I believe of the church traveling, welcome back to me, come se lo stavete in trattamento con quello che è successo. Which simply represents that the blessing of the Lord, the hand of God, we become more aware of. And then the baptism in the Holy Spirit. I believe there's always a deeper baptism in the Holy Spirit. And lastly, the voice of the Father says, this is my son, who I love. E' l'ultimo, la voce del Padre che dice, questo è il mio figlio, è il mio figlio, è il mio figlio, è il mio figlio, è il mio figlio che è il mio figlio. Un'altra cosa che potremmo ascoltare è che il nostro Padre è giusto fare una declarazione di ciò che pensi di noi, la dichiarazione che Dio fa riguarda noi. Quindi voglio dire che Anna, se lei potrebbe raccogliere perché vuole fare il Padre e 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 il Padre. E non pensavo che Anna, se lei potrebbe raccogliere il Padre e il Padre e il Padre e il Padre e il Padre. E questo simbolizza per la scelta che non voglio più tornare indietro. So, I want you to look at the water. This is a missionary baptism today. Because after she comes up, she's going to go to the Philippines. Can you take that, dude? All right. You can take him to the end. Yeah! Look at all these people. I want you to look at the water. 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 Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.